Inizio di settimana non particolarmente brillante per le principali borse europee, con i listini che guardano nuovamente agli Stati Uniti in cerca di un accordo sul bilancio e ai deludenti dati cinesi. Piazza affari negativo dopo il declassamento del rating italiano da parte di Fitch, arrivata a perdere oltre un punto percentuale, il Fuzzimib riduce le perdite a meno 0,69%. La peggiore di giornata è però Madrid, che cala dello 0,85%, nonostante lo spread spagnolo in questi giorni viaggi ormai a pochi punti da quello italiano. Il differenziale di rendimento tra BTP e Bund risale sopra quota 310 punti base, negativa anche Parigi, meno 0,16%, mentre Francoforte gira sostanzialmente in pari e Londra sale dello 0,31%, euro su dollaro stabile con la moneta unica scambiata a 1,30.